Sì, è normale che soprattutto il secondo tempo abbiamo fatto meglio di loro. Il primo tempo hanno fatto qualcosa in più, ma come cross, come questa palla lunga che l'abbiamo sofferta un pochettino. Poi al secondo tempo sicuramente siamo entrati meglio, più determinati, soprattutto perché il risultato ci dava sconfitti e perciò forse abbiamo messo un po' più di anima rispetto al primo e meritavamo qualcosa in più. Non dimentichiamoci che anche Kosovan a minuto e mezzo dall'inizio ha sbagliato un gol, che era difficile da sbagliare. Però, ripeto, sono episodi che a volte ti condizionano le partite, ti danno la possibilità di beccare i tre punti, altre volte l'episodio diventa negativo e resti con un pugno di mosca in mano. Per quanto riguarda questa rozza nei passi punti della classifica, voi sperate più di agganciare Valentino oppure che non si discutino proprio? Ma ancora questa legge non lo so se già è stata applicata, negli ultimi due anni è stata applicata quella legge degli otto punti di differenza tra la penultima e la quinta ultima, però noi più siamo meglio è. Il discorso base è normale che se rientrano l'Avellino, la Vibonese e tante altre squadre che sono magari a qualche punto più avanti di noi, sai benissimo che con tre punti basta che fai quattro risultati, cinque risultati utili consecutivi, riesci ad attaccarti a qualcuno. Però come diciamo noi che siamo gli addetti ai lavori, è normale che più scontri diretti ci sono, è meglio per tutti. Ci sono altre domande per il mister? Guardate così, grazie. Ciao, grazie a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.